Arriva il Messina dell'ex Gaetano Auteri, scelte praticamente già fatte, Colombo opterà per un corposo turnover. Il tecnico Lombardo sembra infatti intenzionato a far riposare Lescano, Milani, Mora, Palmiero e De Sogus. Pronti Vergani, Crescenzi, Aloy, Craia e Colai, di fatto tutti titolari. Se così fosse scenderebbe in campo la seguente formazione. Pizzari tre pali in difesa Cancellotti, Brosco, Boben e Crescenzi, a centrocampo Giabua, Craia e Aloy. Davanti Cuppone e Colai a supporto di Vergani. Per l'ex Inter sarebbe la prima da titolare. Il Messina già da questa sera in Abruzzo, dopo la squalifica, torna a disposizione il guineano Conatè. Sistema di gioco 3-4-3, il probabile 11, Lewandowski tre pali in difesa Berto, Camilleri e Filia. A centrocampo Fiorani, Mallamo, Fofanà e Fazzi. Attacco senza prima punta di ruolo con Baldè, Iannone e Catania. L'ex e il ventenne attaccante di penne Paolo Napoletano in prestito dal Parma. Da circa dieci giorni si sta allenando con i siciliani lo svincolato Lucantei. Appena due presenze con la maglia del Delfino nei primi sei mesi della stagione 2021-2022. Il trentenne difensore cresciuto nella Roma, afflitto negli anni da tantissimi problemi di natura fisica, sembra aver convinto lo staff tecnico, firma imminente. Messina penultimo con dieci punti insieme col Picerno in trasferta 6 KO in altrettanti incontri. Un solo gol realizzato lo scorso 18 settembre ad Avellino e ben a 14 incassati. Auteri ritorna da ex laddove non ha inciso lo scorso anno 58 punti in 35 partite, 49 reti realizzate e 37 subite. Quinta posizione a meno 5 dal terzo posto occupato dal Cesena e l'Esonero a tre giornate dall'epilogo. Dopo il misero bottino di due punti in tre gare, pareggi contro Teramo 0-0 e Pontedera 1-1, sconfitta e pessima prestazione in casa della Lucchese. Grazie per la visione!